Perfetto, entrambe le missioni sono state completate, aumenta il livello massimo dell'abilità legame, perfetto, forgia legami, che era proprio quello che volevo, assalto e spiaggia, consegna il melone, ne abbiamo 6 e sconfiggi jack frost, ecco fatto. Wow, guarda che anguria, è enorme, bene direi che ho proprio il mio bel da fare, devo riuscire a dividerla in modo netto e preciso, in modo che tutti possano averne un pezzo. Allora vogliamo cominciare, oh ma il bastone? Bene, nella prigione mi sono resa conto di una cosa, piuttosto che brandire un'arma a me poco familiare come il bastone, ho capito che con i pugni potrei ottenere un risultato migliore. Stacca giù la terra a metà così, crac. E ora, grazie a quel gri, e ora, grazie a quel giretto nella prigione, sono pronta a darci dentro, sento di poter spaccare quell'anguria in due parti perfettamente uguali. Quanta audacia. In caso riuscissi a dividerla in modo accettabile, mi aiuteresti a passare le fette al resto del gruppo, tu ovviamente potrai avere la parte migliore, giustamente, la parte migliore, figlio Nix. Dopotutto, ti sei fatto in quattro per aiutarmi con questa richiesta. Ok, appena sono pronta, te lo dico, tieni il conto dei miei giri, d'accordo? Finita? È finita così la missione? Cioè non c'era neanche una scena? Si sta facendo tardi, verrà qualcuno a mettere via tutto, lo spero per lui. Nessuna scena triste così? Sono molto rattristato, cioè, cazzo, in persona 5 Royal, o comunque in persona 5 base, scene del genere sarebbero state all'ordine del giorno qua, neanche lo sforzo di fartela vedere, proprio... Cioè, quando sono andati in spiaggia con Futaba, hanno fatto vedere qualsiasi cosa, compreso Yusuke che arriva lì con le cazzo di aragoste. Però Uvac è bello, cioè Uvac è bello il riflesso del sole, che è anche fatto bene. Comunque non era quello che stavo dicendo, neanche lo sforzo di fare una scenetta dove lei prende il pugno, spacca a metà il mondo così. Comunque, Morgana, che succede? Cosa hai visto qua, gattone? Vietato l'accesso, beh, se non è sospetto questo, pensi che abbia a che fare con il laboratorio di ricerca? Con il sole prossimo al tramonto sarebbe molto rischioso andare da soli. Hai ragione, facciamo venire tutti gli altri allora. Certo, va bene. Va bene, contatto tutti. Brava Sofia. Vietato l'accesso, e perché mai? Devo ammetterlo, non fa che aumentare l'aura del mistero di questo posto. Oh, a me suona come una sfida. Avanti, ultrapassiamo e facciamo chi ha il coraggio di arrivare più lontano. Eh, no, fine della corsa. C'è un Utaki da queste parti, non vedete? Su quel cartello. Utaki? Cos'è un Utaki? Un terreno considerato sacro fin dai tempi delle Ryukyu. La gente credeva che ci viversero gli dèi o che fossero discesi in terra, proprio lì. Chi abita qui venerà ancora a questi luoghi, ma avventurarsi laggiù solo per farsi una risata potrebbe mettervi in guai seri. Oh, io non ne avevo mai sentito parlare. Non pensavo sapessi tutte queste cose. Beh, con se conosci il territorio è la base dell'arte investigativa, e se volete farmi altri complimenti, accomodatevi pure. Vorresti dire che ancora oggi si adorano le usanze dell'epoca delle Ryukyu? Già, venerare ciò che è incomprensibile è qualcosa di profondamente radicato nella coscienza umana. Beh, effettivamente è vero. Il falso dio, più o meno, era una roba simile. Beh, sono certo che non avete nessuna intenzione di farvi incazzare una divinità. In realtà già l'abbiamo fatto, ma dettagli. Diamo retto al cartello e giriamo i tacchi. Davvero mistico. Ho controllato online, ma pare che questo posto non abbia un particolare importanza. Ci sono soggetti molto più interessanti, come la forma della linea costiera, il suolo delle onde che si infrangono, il suono, e le forme di vita sottomarine. Sono i valori individuali da determinare l'impatto che la realtà ha sulle persone. Vero? Come la... la... il considerare le cose, come diceva Maruki. La coscienza. Per te non avrà alcun significato, ma per qualcun altro questo posto potrebbe essere un luogo sacro. Dipende dai miei valori. E la madonna. Le vi scuse. Lo stomaco di Inari si fa sempre sentire al momento giusto. Beh, sto crepando di fame anch'io, ma a quest'ora credo proprio che di non essere l'unico. Vogliamo finalmente dare il via al tanto atteso barbecue. È l'ora del barbecue. Cavolo sì, apriamo il festival della carne di Okinawa. Non dimenticare il curry. Dobbiamo fare un curry delle blanche in versione tropicale. Ma la dieta di Futaba, che cosa consiste, porca troia? Quello non è esattamente cibo da barbecue. E poi non avete già mangiato il curry in traghetto? Accetto la sfida. Il curry si abbina splendidamente alle roventi e candide sabbie di questo paradiso tropicale. Per te va bene qualsiasi cosa pur di mangiare Yusuke. Ma non ha alcun senso. No, veramente, cos'è questa ossessione che avete per il curry? Grazie, Ryuji. Finalmente qualcuno che mi capisce. Ehi, Fionix. Posso aiutarti? Grazie per avermi portato a fare quel tour sottomarino. È stata un'esperienza affascinante, in quanto Ia non avrei mai potuto farlo senza il tuo aiuto. Mi ha davvero riempito il cuore, anche se non ne ho uno. Non è vero, Sofia. Tu ce l'hai. È la pure e semplice verità. È inutile cercare di non ferire i sentimenti che non provo. Tuttavia voglio comunque tentare di comprendere i sentimenti e la loro natura. L'ho capito quando ho visto il mare per la prima volta. Ad esempio, stare con te ai ladri fantasma è piuttosto divertente. Sì, divertente. È la parola giusta. Mi sono divertito anch'io. Allora ho capito. Ho capito un'altra emozione. E, ok, ho memorizzato il significato di divertente. Ehi, datti una mossa. C'è un sacco di roba da cucinare. E tu devi cucinare, perché io non lo so fare. Abbiamo preparato da mangiare sulla spiaggia. Sono arrivati i coloni. Ehi, pulite tutto, porca troia. Che bello che c'era Morgana nel piattino che mangiava. Ascidenti, questa carne è uno spettacolo. Ehi, quel pezzo l'avevo visto prima io. Il curry è eccellente come sempre. E con questi avanzi, domani potremo cavarci preparando degli ottimi udon di curry. Lasciando perdere il fatto che tu abbia già pianificato il menù di domani. Perché non aggiungiamo del tofu fritto a questi inari udon? Da quando siamo partiti abbiamo mangiato una prelibatezza dopo l'altra. Viaggiare rende molto complicato tenere sotto controllo la propria dieta. Devo stare più attenta. Ma se sei qui così in forma, Makoto. Vero, Fionix? Sei davvero fisicata? Lo prenderò come un complimento. Però devo ammettere che di recente non ho avuto molto tempo per allenarmi come vorrei. Ma se hai spaccato un melone a metà con un pugno prima. Anche se non l'abbiamo visto. Beh, ma che importa? Se hai messo su un po' di carne probabilmente ti aiuterà a dare più forza ai tuoi pugni. Vuoi mettere la prova alla tua teoria? No, no, no. Ti prego, no. È già la seconda... Forse è anche la terza volta che Makoto, come si dice, minaccia Ryuji. Che c'è, Zenkichi? Hai fatto indigestione? No, 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 no. C'è qualcosa che non va? Probabilmente non è niente. Su, leppiamoci di torno. Dobbiamo svegliarci presto domattina. Ok. Zenkichi sospetta. Ehi ragazzi, sta succedendo qualcosa. Già, cosa sarà? Fate silenzio e ascoltate. Credo che... Credi che? Che sta succedendo? È passato dalla sera alla notte, che c'è ancora il sole, però va bene. St'atmosfera è ipercupa? Cos'è? Film dell'orrore. Sento neanche mus... Ma che siamo pazzi? Ho alzato il volume quando... Si è affacciato sto qua. Ma poi lasciamo aperto il camper, noi. Ma che siamo scemi? Ma abbiamo lasciato tutto aperto. No, ma è cambiata l'atmosfera. Ma però sembra tutt'altro gioco qua, eh. Vabbè, no. Poi vedi i modelli e le animazioni, capisci che è ancora Persona 5 Strikers. Ho. Vabbè, c'è la città? Non c'è la città! Detta la città! Grazie a tutti! Ma che cazzo Ah vabbè Grazie Ryuji di aver Distrutto il momento Ma che cazzo sta succedendo Quei tizzi sono fuori di testa Sul serio se Zenkichi non se ne fosse accorto in tempo Parlavano di profanazione di un terreno consacrato Che intendevano dire? Il laboratorio? Capisco può darsi Ricordate quel cordone all'entrata Esattamente dopo averlo visto abbiamo proseguito comunque Frena frena che cacchio ci sarebbe di sacco in un laboratorio E se anche fosse davvero consacrato Che bisogno c'era di comportarsi in quel modo? Sembrava quasi che volessero ucciderci Volevano uccidervi Da qualsiasi punto di vista lo si voglia vedere Questa gente si è bevuta il cervello Un momento E se fosse? Hanno rubato i loro desideri Vorrebbe dire che da queste parti c'è un monarca giusto? Però Sofia Ha detto di non aver fiutato nessuna prigione qui intorno Affermativo Non avverto l'odore di alcuna prigione Tuttavia Hai anche detto di aver avuto una brutta sensazione Considerate la nostra situazione Posso soltanto presumere che queste persone abbiano subito un risveglio del cuore Prima d'ora però nessuno aveva provato ad attaccarci Forse c'è davvero qualcosa di strano su quest'isola Qualcosa che nemmeno Sofia è in grado di rilevare E ora che facciamo? Ci prenderanno se restiamo qui Andiamo al laboratorio Sicuro che sia una buona idea Non troveremo gente a cui è già stato fatto il lavaggio del cervello In realtà potrebbe essere un'idea migliore di quanto non sembri E l'entrae nella proprietà altrui? No, beh tanto Che vuoi dire? Non netto Beh, fare proprio che per loro quel posto abbiano certa importanza È ovvio, qui c'è sotto qualcosa Ovunque andremo su quest'isola alla fine riusciranno a prenderci Perché allora non miriamo subito al cuore del problema E il cuore del problema sarebbe una prigione Però non c'è alcuna pri... È vero, non c'è nessuna prigione Ma sono pronto a scommettere che nella loro terra sacra troveremo qualcosa Credo sia molto meglio andare lì Piuttosto che starci nascosti tra cespuglie Fino a quando non ci avranno trovati Dico bene? Hai ragione? Devo dargli ragione Ok, andiamo al laboratorio Ehi, e come ci arriviamo? Cioè, senza farci scoprire E lo chiedete a me? Siete voi ladri fantasma? Beh, quelle abilità funzionano solo nel mondo cognitivo Tranquilli, seguite l'istinto Ascoltate le mie indicazioni e non alzate la voce Va bene, seguiamo le indicazioni di Zenkichi Ci sarà il modo di muoversi? No, hanno tagliato tutto Li abbiamo seminati, vero? Sì, via libera La cosa mi sorprende Mi aspettavo una maggiore sorveglianza da queste parti Un momento, aspettate Arriva qualcuno, nascondetevi È il tizio di prima Che cosa sta facendo? Da qui non si vede molto bene Potrebbe farci comodo Non c'è nessun altro con lui Una volta catturato potremmo interrogarlo Posso aiutarti se vuoi? Non preoccuparti Lascia fare i professionisti Vuoi fare tutto da solo, non netto? Ho già un certo addestramento alle spalle Me la caverò Voi restate qui e controllate che non arrivi a nessun altro dei suoi amici Porca vacca Tutto da un tratto e non netto è diventato un gran figo Sono fermo Salve, mi scusi Canaglia Come osi profanare il terreno consacrato al nostro signore Wow Che animazione incredibile Dai Dai Neanche l'animazione di lui che cade Ma sul serio Cioè Faccio piccolo paragone Il momento in cui lo zio di Futaba Viene e cerca di Approcciarsi a suo giro E noi ci mettiamo in mezzo Almeno si vede la scena che lui cade Qua neanche quello Wow Deve fare attenzione Tutto bene? Di nuovo Gli hai fatto il culo a strisce Beh Era chiaramente legittima difesa È davvero un agente di pubblica sicurezza Ehi Guardate un po' Il cartello che abbiamo visto stamattina Guarda meglio La data del 18 è stata cambiata il 19 Pare che il personale della struttura sia in vacanza a tempo indeterminato Un giorno alla volta Perché fanno così? L'ipotesi più probabile Lascia in attesa chiunque arrivi sull'isola per vedere il laboratorio Una volta visto il cartello I visitatori non possono fare altro che restare sull'isola ad aspettare E durante la notte Per proteggere ciò che si nasconde lì dentro L'agente del posto va a fare una visita Che si è dimostrato troppo curioso Che tattica disgustosa Beh Portiamo avanti l'indagine Si è subito un risveglio del cuore E sul suo smartphone dovrebbe esserci la Pemma Quindi Gli stai frugando nelle tasche? Eccolo Tanto lui è ancora morto così? Si c'è Emma e ha solo un amico Shuzu Ubukata E' possibile che questo Ubukata sia il monarca di Okinawa? Abbiamo una parola chiave Ah Questa è un po' difficile Ah un momento Qui c'è una mail Per lei un cordiale invito a diventare tester del sistema Emma Tester di Emma? Ah c'è persino una parola chiave Operazione Oraculi Chi ha inviato la mail? Non riconosco l'indirizzo Forse viene dal laboratorio Il laboratorio ha chiesto a tutta questa gente Di fare il tester per Emma E ora che si fa? Grazie a quelle mail abbiamo una parola chiave Operazione Oraculi Se la gente che considera sacro questo posto subito risveglia il cuore Allora c'è di mezzo una prigione Non ci sono dubbi Sì però qui non abbiamo trovato nessuna prigione Giusto Sofia Non ne sono sicura Quel che è certo che non avverto l'odore C'è solo un modo per saperlo Ha ragione Se non proviamo ad entrare si chiude il discorso Ma in caso ci fosse la prigione Basterà trovare la parola chiave per finire drittimi al suo interno Siamo tutti pronti Non abbiamo altra scelta Dobbiamo provare Sono stati i nostri inseguitori a indicarci la via Già persino il metaverso mi sembra più sicuro di questo posto Ok facciamolo Emma aggiungi Shuzu Ubukata Alla mia lista amici Parola chiave operazione Oraculi Non funziona? Un momento Chiuto una prigione Il suo odore è già intorno a noi Parola chiave inserita correttamente Avvio navigazione E allora perché prima ha fatto la cosa del non funziona? Scusa vabbè Amen Forse perché si è creata in questo momento Potrebbe essere un'ipotesi C'è Zenkichi qua con noi? E beh in teoria si In teoria anche Zenkichi è entrato Sì eccolo qua No mi sto cagando addosso E se lo fa Cazzo Che scena figari oggi Non si direbbe Ma di nuovo questa scena Esatto io sono fidanzato con Futaba Pensa se in questo momento effettivamente sei fidanzato e qualcosa succede Allora c'è davvero una prigione qui E questa E questo Ubukata è il suo monarca giusto? Però perché Sofie non riusciva a rilevarla? È possibile che fosse dormiente La prigione fosse dormiente? Una volta inserita la parola chiave È stata come se questo luogo si fosse risvegliato Vorresti dire che le prigioni hanno una modalità stand by? Una prigione che si aggiunge alla lista Un problema Sento come se qualcuno mi chiamasse per nome Ah la Venza Come lo spieghiamo ogni volta che andiamo dalla Venza? Sembra che tu sia di fronte a un bel dilemma In queste terre ti aspetta un essere inumano E per cui E per cui che lei Lei? No Non dovrei parlarne oltre Il mio compito è assistere il cammino posto dinanzi a te e alle tue decisioni Dovrei osservare con i tuoi occhi l'essere di cui parlavo Quanto al motivo per il quale sei qui È a tua disposizione una nuova forma di esecuzione delle persone Ora puoi eseguire la fusione triadica Un'esecuzione di gruppo che conferisce un potere speciale Fusione triadica Ora puoi eseguire la fusione triadica Le persone nate da questo tipo di fusione ricevono più facilmente il bonus e le statistiche Approfittane quando possibile Le fusioni triadiche ti permettono di generare persone ancora più potenti Usa le saggiamente per prepararti le prove che ti attendono Addio Tutto qui? Cioè nel senso Mi hai chiamato per dirmi una cosa che non mi hai detto? Vabbè guarda Va bene così Gli occhi livello sono 43 Quindi Mitras posso farlo Minchia quante debolezze ha Mitras Non me le ricordavo così tante io Però posso fare Mitra Che ha solo debolezza al fulmine Ok Questo lo faccio Ma che bello Cioè nel senso alla fine non è niente di più che le esecuzioni classiche Ma tre Niente di più niente di meno Ci sono tante cose che non mi piacciono di Di Strikers Ad esempio questo Il sistema di fusioni Perché io non posso fondere le persone come voglio Perché non posso per esempio Fare questo Solo perché la persona di questo giro è troppo debole Che cacchio vuol dire Quando io ho una persona proprio perché è debole la faccio per diminuire il livello della mia persona Per ricevere una persona più indietro Vabbè usciamo Che succede? Niente Comunque Se è stato risvegliato il cuore a tutta la gente di quest'isola Non significa anche che i loro desideri sono stati sottratti Dobbiamo recuperarli in fretta Finché non lo faremo saremo in grave pericolo Giusto Per prima cosa dobbiamo scoprire dove li tengono i prigionieri È tutto vero giusto Continuo a sentirmi come se stessi diventando matto Chiedo scusa Fate pure le vostre cose Io me ne resto qui Questo è il vostro territorio Non il mio Già Lascia fare a noi È qui che noi sconfiggeremo chiunque ci ostacoli Occhio alle ombre Sì signore Terò gli occhi aperti Solo un momento Sofì? Sento una voce provenire dall'interno Cosa intendi dire? Sento qualcuno che mi chiama Vado a controllare Ehi aspetta Sofì Andiamo Joker Stai attento Zenkichi eh Ehi aspetta Zenkichi eh